Un accordo triennale per promuovere l'eccellenza agroalimentare della Toscana a livello internazionale è quello che hanno siglato nel capologo Toscano Regioni, Camera di Commercio di Firenze e Promo Firenze. Nella sede di Palazzo Sacrati Stroci sono state annunciate le linee per sostenere e diffondere il brand toscano dell'agroalimentare nel mondo, a partire dalle manifestazioni come Buy Wine, Buy Food e Selezione Oli di Toscana. Attraverso una collaborazione sempre più stretta con la Camera di Commercio, che è su queste iniziative il nostro partner naturale direi, cerchiamo di comunque anche in tempi difficili, anche in tempi così complicati, di promuovere sui mercati internazionali, sia quelli europei che quelli asiatici o americani, i nostri prodotti di eccellenza, che sono il vino, prima di tutto, ma che sono anche altri prodotti agroalimentari, dall'olio, dalle anteprime fino appunto al Buy Food, che sicuramente hanno una grande attenzione nei mercati esteri. Il fatto che non si possa esportare e fare delle fiere, che io so bene, venendo dall'esperienza delle fiere, cosa significa? E mandare i prodotti a distanza, raccontarli da qua, farli assaggiare nei siti dei prodotti inviati e quindi vendere, è un modello ibrido, nuovo, che rappresenta anche la possibilità che le cose si possano fare anche in un contesto così complesso. Quindi, di per sé, noi vogliamo aiutare le nostre imprese a vendere, dall'altra parte vogliamo aiutare le nostre imprese anche a capire che le cose vanno cambiate, ma si possono fare. Una spinta è la digitalizzazione che prova a rispondere ai problemi della pandemia. Di fatto, Buy Wine, l'evento di B2B che portava ogni anno di Toscana, giornalisti e buyer da tutto il mondo, si terrà in forma digitale e coinvolgerà 150 imprese toscane divise in tre aree di riferimento, una dedicata all'Europa, una all'America e l'altra ad Asia e Oceania. 120 buyer coinvolti a supporto dell'evento online, ci sarà una piattaforma dedicata, così le aziende potranno dialogare e incontrare i probabili clienti interessati alle proprie produzioni. Saranno 150 le aziende toscane che parteciperanno, 120 sono i buyer esteri da tre aree del mondo, Europa, Asia, Oceania e Americhe e quindi un panorama generale che dà le prospettive positive. Noi cercheremo di mettere tutto il nostro know-how, come abbiamo messo, in modo che le imprese che in un momento particolare come questo, non è solo il fatto della sopravvivenza che devono avere, ma devono essere in pole position per la ripartenza. La valorizzazione delle imprese sull'agroalimentare, con le eccellenze che abbiamo in Toscana, deve essere in pole position, perché chi sarà in pole position sarà il primo a partire, chi rimane indietro ha perso.